Frequento poi gli abruzzi in particolare, vado spesso a visitare anche il santuario di San Gabriele, insomma una serie di elementi anche da nunciani, per carità, se parliamo di Pescara, Francavilla, sono uno che ho affrequentato, anche da bambino, venivo in vacanza da queste parti al mare, sia appunto a Pineto, sia andavamo a Francavilla, perché molti pugliesi vengono su questa costa. Ma sedendo e mirando in terminati spazi di là, da quella, e sovrumani, silenzi, io nel pensiero mi fingo, ove per poco il cor non si spaura. Sono felice di, ripeto, di coniugare in questa serata sia l'aspetto drammaturgico, letterario, poetico, di grandi poeti, e poi anche un caro saluto tra tutti i personaggi che io ho interpretato, da padre mio a Corrado Cantani, ai miei personaggi di romanzo criminale, dove ho diretto tanti di quegli attori e tante attrici, anche che oggi vanno per la maggiore nel nostro paese. E come il vento, odo stormir tra queste piante, io quello infinito silenzio a questa voce, poco parando, e mi sovviene l'eterno e le morte stagioni, e la presente, viva, e il suon di lei, così ecco, tra questa immensità, s'annega il pensier mio e il naufragar me dolce in quel mare. Grazie.